le croci con l'elmetto e le pettorine adagiate per terra in piazza montegrappa cgl cisl e will hanno scelto il centro di varese per l'assemblea dei delegati della sicurezza che si sono ritrovati per chiedere a gran voce un patto per la sicurezza dei lavoratori a fronte degli oltre 480 mila infortuni che si sono verificati nei primi otto mesi dell'anno con oltre 600 vittime una media di tre al giorno abbiamo scelto la piazza principale di varese ha spiegato stefania filetti segretario generale della cisola di varese per dare visibilità ad un tema importantissimo che negli anni non ha trovato attenzione e il numero delle vittime lo dimostra c'è ancora poca informazione vigilanza e controllo occorre un impegno comune per contrastare la crescita degli infortuni sul lavoro e maggiore investimenti in sicurezza